Amici del Cactus, bentornati sul mio canale e benvenuti ai nuovi iscritti. Oggi torniamo con un video unboxing, finalmente dopo tanto tempo torniamo a spacchettare. Oggi un video che non stavo più nella pelle, non vedevo l'ora di farlo. Finalmente andiamo a spacchettare l'oro, l'ultimo arrivo. Come avete visto sulle mie storie di Instagram, sono riuscito a coppare le Jordan 1 Chicago Lost and Found. Edizione 2022, la quarta edizione, ricordiamo, 85 l'originale, 94, 2015 e finalmente la Lost and Found. Però non vi starò qui a parlare della scarpa e della storia, ma sarà un semplice video di uno spacchettamento. Vi farò vedere un po' come la scarpa. Hanno fatto già mille video sulle caratteristiche e la storia di queste scarpe e poi non ha bisogno di una presentazione, si presenta da sola. Quindi non sto più nella pelle, bando alle ciance, come dico in tutti i miei video. Andiamo a spacchettare. Ho aspettato, l'ho ricevuta stamattina. Tra l'altro, storia bellissima. Ero al bar, sotto casa, e ho visto passare il colline di Bartolino. Ho iniziato a correre, l'ho inseguito. Senti, scusa, ma è un pacco per me. E alla fine li ha trovati nel furgone, era proprio lui. Consegna super rapida, dopo tre giorni erano già qui a casa, nelle mani di Papino. Uno dei miei grail, una delle mie scarpe preferite, la Chicago. Una delle scarpe più attese dell'anno. Anche da me ho pianto tutte le lingue, in tutte le lingue, per aver pregato tutti i santi. Alla fine ce l'ho fatta, l'ho coppata. Votem. Andiamo a spacchettare, ragazzi, non ce la faccio più. Appunto, ho aspettato voi, ho aspettato il momento del video per spacchettarla, per avere una reazione più naturale, più veritiera possibile. Questo è il momento che mi dà più dolore, vorrò più felicità nella vita. Togliere il sigillo. Chi ha visto già i miei precedenti video, sa che questo per me è veramente un colpo al cuore. Allora, basta, ho fatto. Bellissimo. Andiamo? Olè! Non mi aspetto nulla, so già cosa troverò all'interno, perché ho già visto mille video di gente che l'ha avuta prima di me, che non ha vinto la raffa, ma l'ha avuta per via traverse. Monelli, non si fanno queste robe, bisogna giocarsela ad armi pari. Facciamo subito la scatola, bella, un po' vintage, un po' rovinata, con i bordi tutti rovinati, dicevo, anche perché questo è il modello Lost and Found, cioè quelle che vengono lasciate nei magazzini, quindi perse, e poi vengono ritrovate e rivendute a prezzi di Outlet. Come potete vedere, c'è il prezzo scontato a quanto le vendevano all'epoca. Si intravede un 64 dollari, tipo, con il bollino dei sal di sopra. Andiamo a spacchettarla, dai ragazzi, basta. Carta, super figa, con tutte le grafiche appunto, degli articoli di giornale della Chicago, dell'85, mi sa che sono anche le altre pubblicità della 15, della 94, eccetera, eccetera, con i vari logo Wings di Jordan. Jordan, oh, 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 oh. Pelle d'oca, mamma mia, che belle. Quindi prima di avvicinare, farvele vedere bene, farò il test che faccio sempre, una delle mie parti preferite. Quando hanno quell'odore di scarpa nuova, di magazzino, di nuovo, ragazzi, io mi emoziono sempre, bellissima. Allora, come si presenta? Ve la faccio vedere, eh. Eh, spacca i culi, ragazzi. Spacca. Allora, ve la spiegherò in breve. Allora, troviamo parti in pelle già consumate, già usurate. Anche la suola è leggermente usurate, sembrano quasi usate, appunto, essendo una lost and found, una ritrovata nei magazzini, quindi magari ha qualche segno di usura. Anche la parte della linguetta, già... Non mi ricordo il nome del colore, eh. Muslin, color muslin, quindi quel bianco un po' sporco. Doppio laccio, bianco e nero. Rimarranno per tanto tempo, così, le odoreranno per tanto tempo di nuovo con me, perché... Difficile che le indosserò. Il piccolo particolare, che se non avessi visto gli altri video unboxing, quindi ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto prima di me, l'avrei lasciata dentro per anni e anni e anni. Hanno un piccolo particolare. Abbiamo anche la ricevuta del Sandy Bros, il negozio di basket in cui sono state comprate il 30 agosto dell'86, dal signor Paul Hell. Quindi Air Jordan Basketball Shoes, paid cash, final sale, paid 14,99$. Ora ci ammazziamo per averle. All'epoca 14,99$. Ragazzi, che dire, davvero, è una scarpa che a vederla mi dà tante emozioni. Tra l'altro la 94, da bambino l'avevo buttata, cestinata come milioni di povere scarpe nel mondo, perché all'epoca appunto non si collezionava le scarpe della Nike, si usavano, facevi palestra e poi le buttavi dopo sei mesi, perché crescevi di continuo nell'età dello sviluppo, il piede diventano subito piccoline. Tra l'altro, piccolo particolare, che è molto simile alla storia di questa scarpa, io le mie prime Jordan 1 Chicago del 94, le ho avute, tra l'altro di seconda mano, perché mia mamma me le ha comprate al mercatino, al mercatino di paese, il martedì, da quelle che da noi a Monopoli sono chiamate le pezze americane. Adesso sarebbe il mercatino del vintage, quindi beccavi tutti questi pezzi Nike, scarpe, poi non so manco in realtà se erano originali o meno, perché comunque erano scarpe comprate nel 96-97, buttate su una bancarella e siccome per giocare a calcio, a basket con gli amici, ne rompevo un paio a settimana, mia mamma me le comprava da queste pezze americane, dei mercatini, adesso chiamati mercatini del vintage. Detto questo ragazzi, che dire, davvero sono molto 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 contento, a tutti quelli che non l'han presa, mi dispiace, vedetevi questo video e consolatevi, lasciate anche un commento, un like se vi è piaciuto il video, non rosicate, lasciate un commento, un like se vi è piaciuto veramente il video, e ci vediamo al prossimo unboxing, naturalmente non vi dimenticate di seguirmi su tutti i miei social network, di mettere il subscribe alla pagina di YouTube appunto, e seguirmi per nuovi unboxing e nuovi video. Alla prossima ragazzi! A questo punto del film vi salite domandando, Cactus, le indosserai? Certo che no, le terrò pulite per tutta la vita. Ciao a tutti! Grazie.